Gli agenti della polizia locale di Capaccio, agli ordini del tenente Sofia Strafella, durante un servizio di controllo del territorio, hanno sorpreso quattro uomini mentre praticavano sesso all'interno della pineta in località Varolato. Dopo un breve inseguimento a piedi, gli agenti sono riusciti a fermare due dei quattro uomini, identificandoli e multandoli per 6.600 euro. Nei confronti dei due, entrambi non residenti a Capaccio Pestum, è stato emesso un provvedimento di allontanamento dal territorio comunale. L'operazione, fanno sapere dal Comune, rientra nell'ambito dell'attività di controllo quotidiana del territorio per prevenire e reprimere ogni tipologia di reato.